Da oggi al 2 settembre i comuni di Campli e Pietracamela si trasformeranno in Borghi della Musica. Dieci giorni con altrettanti spettacoli e concerti musicali di alto profilo alietteranno le serate agostane dei due centri Terramani. L'evento, patrocinato dal Senato della Repubblica e voluto dall'associazione Chimbala e dalle rispettive amministrazioni comunali, prevede parallelamente lo sviluppo del progetto IMC Masterclass tra le più importanti a livello europeo con oltre 150 musicisti accorsi da tutto il mondo per perfezionare le loro tecniche. Sì, è un progetto molto ampio che parte dalla Masterclass Progetto IMC per arrivare a produrre spettacoli serali. I ragazzi sono tantissimi, stanno già lavorando mentre noi parliamo, abbiamo già i solisti per i due concerti con la Sinfonica del 27 e del 28 rispettivamente a Campli e a Pietracamela. Per quanto riguarda la Masterclass è un momento particolarmente qualificante. Sì, perché è veramente un corso di alto perfezionamento. Io che ne ho fatti, oramai a una certa età, però quando avevo 20 anni ne ho fatti tanti anche all'estero, so quanto formano questi corsi e il ragazzo, il musicista si rende conto se la strada è quella giusta o no. Quindi noi in questo momento andiamo ad impegnare le nostre forze, anche le nostre economie, quelle stesse economie che ci sono state giustamente riconosciute l'anno scorso in un momento di difficoltà per lo sviluppo culturale dell'intero Abruzzo e su questo non ci tireremo mai indietro da questo punto di vista. Primi appuntamenti concertistici oggi al Belvedere di Pietracamela e domani al Comune di Campli. Abbiamo colto al volo l'occasione di poter avere da noi l'eccellenza culturale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese in modo che creare un'attrattiva culturale nel nostro borgo che soffre ancora dei danni del terremoto e da poter ridare vita a un tessuto sociale che già è stato danneggiato negli ultimi anni. Sono presenti a Campli i maestri più importanti, più noti nel mondo e allievi provenienti da tutte le parti del mondo, Libano, Stati Uniti. In questi giorni vedere per Campli questi ragazzi che passeggiano con i troll e gli strumenti musicali e sentire queste note che risuonano nel nostro centro storico è per noi un motivo di grande orgoglio, quindi attendiamo tutti coloro che amano la cultura, che amano la musica a Campli.